Fortunato di nome di fatto il lupo catturato sabato scorso nel giardino di una casa in via Primo Maggio a Fano dove era finito disorientato e sotto shock a metà mattinata. Ma dallo stress e dallo spavento preso in città l'esemplare di lupo forse cieco slovacco è passato a riposo e al sicuro nei colli bolognesi. Infatti dopo le prime cure fornite dal personale del CRAS, il centro recupero animali selvatici della provincia di Pesero e Urbino, l'animale è stato trasferito nel centro tutela ricerca fauna esotica e selvatica di Montiadone. Per Elisa Berti, responsabile del centro specializzato, si tratterebbe di un vero lupo anche se non si escludono in croci i pregressi con i cani. Ora l'animale si trova in un bosco protetto, silenzioso e idoneo sul ricupero alla riabilitazione, mangia carne selvatica e dorme in un giaciglio di paglia tutto suo. Il lupo di Fano fa la bella vita insomma, dopo aver passato ore e ore a girovagare dai monti al mare. Ha mangiato poco e quel poco che ha ingerito fortunatamente non gli ha provocato alcune intossicazioni alimentari. Anche se l'esemplare non presenta fratture o ferite potrebbe essere stato colpito da un'auto e poi impaurito aver perso l'orientamento. Comunque, come ci hanno confermato gli operatori del centro, è ancora presso per dire quando e dove verrà rilasciato. Di certo non prima di qualche giorno. Dipenderà dalle sue condizioni di salute e dall'esito degli esami clinici. Intanto si sta pensando a un radiocollare per non perderne le tracce, ma per ora è solo un'ipotesi. La disavventura di Fortunato, così ribattezzato come la città di Fano, Fanum Fortune, ha riacceso i riflettori sul problema del CRAS provinciale. E' esperto in simili imprese, ma che per mancanza di fondi non è riuscito ad essere presente. Come ha spiegato Emanuela Giovanelli dell'Associazione Ampana, gli operatori non riescono più ad intervenire, anche perché non hanno nemmeno i soldi per il carburante. Le sorti del CRAS ora sono in mano alla regione che probabilmente, ha specificato, rigirerà alla provincia queste competenze. Ma ad oggi mancano degli accordi economici. Si parla in totale di 120.000 euro circa l'anno, ha detto, che comprendono i costi per gli operatori, i veterinari, i mezzi e il cibo per gli animali. Gli operatori del CRAS sono pagati fino al 30 di questo mese, però essendo finita la benzina, non avendo più le convenzioni con i veterinari, non avendo più neanche le convenzioni con la ditta che deve effettuare lo sbattimento delle carcasse, ovviamente anche recuperando gli animali loro non saprebbero cosa fare. Io sono dell'Associazione Ampana e noi associazioni abbiamo raccolto anche dei fondi per poter pagare la benzina. Questo però chiaramente non è sufficiente, ripeto, perché seppure si presentassero non saprebbero poi cosa fare, cioè dove portarli, perché sono operatori e non sono veterinari.